Era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dallo scorso febbraio per un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex, ma il congegno risultava spento. Per questo i carabinieri di Cittadella hanno arrestato un 28enne originario dell'Est Europa presentandosi nella sua casa di Carmignano di Brenta. Ai militari il giovane ha risposto che aveva lasciato scarico il braccialetto a causa dei rumori che gli risultavano molesti. Arrestato per la violazione dell'obbligo, il 28enne è stato processato per direttissima. Dopo la convalida dell'arresto è stato rimesso in libertà vigilata a casa.